La pancia dopo il parto Micolo Livieri fisico dopo il parto, la mia pancia? Ho partorito da tre mesi Micolo Livieri, polemica su Instagram, la pancia dopo il parto? Lattrice non accetta le critiche Micolo Livieri, dopo il successo riscosso nei Cesaroni, continua oggi ad essere molto seguita dal suo pubblico Sui social infatti lattrice condivide quotidianamente i momenti della sua giornata, coinvolgendo nella sua vita di moglie e mamma anche i suoi followers Il web, però, non sempre è uno spazio dove le persone condividono il proprio pensiero civilmente e, recentemente, un commento in particolare avrebbe fatto arrabbiare Micolo Su Instagram un utente, sotto una sua foto, ha fatto una battuta di cattivo gusto allattrice, indispettendo questultima a tal punto da spingerla ad intervenire per dire la sua Il suo corpo dopo il parto può anche non essere più lo stesso, ma questo non può certo essere oggetto di analisi da parte di chi non la conosce nemmeno Micolo Livieri, la mia pancia? Ho partorito da tre mesi Mamma mia che pancia che hai avrebbe scritto il ragazzo, senza però accorgersi che, in realtà, la protuberanza che vedeva in foto era dovuta alla felpa arrotolata male della Olivieri A fargli notare l'errore, infatti, sarebbe stata proprio questultima che, dopo questa precisazione, ha scritto, non ho la pancia e comunque, anche se fosse, sei un gran cafone Ho parto da tre mesi ha aggiunto poi Micolo e avrei tutto il diritto di avere ancora la pancia Una presa di posizione chiara quella della neo mamma che, alla fine, ha concluso dicendo, vi lamentate degli stereotipi però siete i primi a criticare una donna che ha appena partorito se ha la pancia E' vergognato Micolo Livieri e le critiche sui social, le critiche di chi l'accusa di essere rifatta Questa non è la prima volta che Micolo Livieri viene tirata in causa dalle persone che la seguono su Instagram Se tanti sono i messaggi di affetto e stima per la ragazza, altrettanto sono quelli di chi, maliziosamente, si lascia andare troppo facilmente in insinuazioni senza fondamento Qualche settimana fa l'attrice aveva risposto a chi, in maniera sempre più insistente, l'aveva accusata di essersi rifatta La giovane età infatti non ha mai certo inibito Micolo che, sul web come nella vita, sembra essere molto decisa e ferma nelle proprie posizioni La giovane età infatti non ha mai certo inibito